benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube li svavo e io sono mister nino tata trattino basso dnt wotofo ha prodotto ha commercializzato una box veramente economica ragazzi per un prezzo che si aggira intorno ai 50 euro monta batterie 2700 21 700 con adattatori 2650 monterale 18 650 una singola batteria con un chipset proprietario che alimenterà il nostro atomizzatore le nostre resistenze fino ad un massimo di 80 watt sigla e recensione ed eccola qua recurve squonk by wotofo ormai hanno preso il via con questo verde in tutte le loro confezioni in tutte le loro uscite con il nuovo marchio sostituito dal colore rosso wotofo www.wotofo.com in collaborazione con the big il grande mike vape un'altra box da in collaborazione tra i due qui al lato le avvertenze ci dice che è una box elettronica le specifiche il nome della box recurve www.wotofo.com made in cina e costruita assemblata by wotofo il colore della mod e il codice di autenticità del prodotto qui il contenuto semplici cose una box recurve un manuale utente un cavo per la ricarica e due adattatori dietro nero e verde niente più qui davanti ospitata la box andiamola ad aprire andiamola a vedere da vicino il corpo batteria della nostra recurve al suo interno come vi dicevo libricino illustrativo contenente anche la lingua italiana a italiano alla pagina 25 ci sono semplici e poche nozioni per il suo utilizzo ci indica importante quattro tipi di batterie che ospiterà il sistema questo grazie anche a due adattatori disponibili 21 700 20 700 26 50 e la classica 18 650 tensione in uscita da 3,7 volta a 4,2 leggerà resistenze con un minimo ragazzi di 0,7 0,8 ohm ad un massimo di 3 ohm o non fate resistenze così basse perché ragazzi è praticamente inutile abbiamo un chipset che regola un massimo di 80 watt ingresso da 5 volta 2 a per la ricarica la capienza della boccettina invece è da 8 ml queste cose ve le faccio vedere io ci dice i colori led ma andiamo avanti il cavetto usb per la ricarica della batteria in se stessa uno dei due adattatori disponibili ed eccola qui amici la nostra box recurve bf un grande tasto fire molto ergonomica gommata vi dico subito le dimensioni ed il suo materiale 60,5 mm per 27 mm dove la larghezza compressiva sarà di 90 mm partiamo su ma partiamo subito a dire sono cinque colorazioni diverse ovvero gunmetal blu red black e white vista da sopra tazza da 22 mm con pin a molla ovvero flow to ante e qui la scritta recurve materiale lega di zinco e gommata all'interno un chipset proprietario ovvero la box non ha il display non non è regolabile la potenza sarà in base allo stato della corrente della batteria in base in relazione peraltro a la resistenza che andrà a incontrare avrà un chipset che regolerà l'uscita massima fino ad un massimo di 80 watt qui lo sportellino dove questi magneti andranno a far presa e ve lo faccio vedere anche bene su tutta la box all'interno c'è un adattatore per andare ad ospitare la nostra batteria 18 650 questa la parte del positivo e qui gli sfiati dove andrà il negativo io non la vado ad utilizzare perché utilizzerò una batteria 2700 di un altro brand ma io ho disponibile questa vista da sotto vuoto foe la firma dello youtuber mike v recurve squonk e qui il marchio c invece da questa parte grazie a questo sportellino si può semplicemente andare ad operare quindi andare a fare il refill della nostra boccettina io ve la faccio vedere di colore scuro comunque è di un'ottima consistenza e per andare a fare il refill basterà semplicemente sfilare la nostra boccettina questo perno farà presa sulla parte del tubicino dove farà il pescaggio del liquido per andare ad aprire la boccettina due dita sulla parte zigrinata ed andiamo a svitare ecco qui arrivati a questo punto effettueremo il nostro refill a meno che non abbiamo a disposizione accessori che ci permettono di effettuare il refill senza dover sfilare la boccettina uno di questi è appunto l'easy squonk refill che ha fatto vuoto foe ed io ho fatto proprio la recensione di recente benissimo adesso vado ad asciugare un attimo il liquido che mi è caduto in questo momento mentre stavo inserendo la boccettina e vi faccio vedere qui la parte della batteria quindi positivo in alto vado ad usare una 2700 una volta entrata riposizioneremo la parte della cover ovvero la back door e vi faccio vedere anche con tutto il peso della batteria fa un'ottima presa all'accezione sono 123 e la box si accende si vede tramite un led dietro la boccettina o la cosa bella che non è a me non dà assolutamente fastidio il led scompare il led è solamente indicativo questo chipset è dotato di cortocircuito ovvero protezione a bassa tensione protezione contro il surriscaldamento indicatore luminoso a led 1 all'accensione durante la ricarica e quando entrano in protezione i dispositivi lampeggerà 5 volte per indicare un cortocircuito lampeggerà 10 volte per indicare la bassa tensione la luce led invece rimane accesa per indicare il surriscaldamento lampeggerà una volta per indicare che nessun atomizzatore è stato rilevato si accende si spegne il led rimane acceso durante il caricamento e si spegne a piena carica ragazzi detto tutto la box è semplicissima secondo me è ergonomica sta bene in mano vince su tante qualcuno mi ha detto è pronni non la pico ragazzi tre semplici cose monta atomizzatori da 25 mm non è limitata a 50 watt monta le batterie 2700 21 700 26 50 le dimensioni chiaramente sono leggermente più grandi però praticità comodità e quant'altro fanno di sì fanno sì che queste dimensioni alla fine in tutta questa linea stondata vi faccio vedere sta benissimo in mano ho montato un atomizzatore warrior rda ovvero rda proprio di waterfall perché mi aveva chiesto di fare la recensione in combo con questo atomizzatore andiamo a vedere l'interno di questo atomizzatore in questo momento è realizzata una single coil con vediamo un po il materiale ni 80 full e 80 è una dual core fused clepton dove si aggira intorno allo 0 28 0 30 diametro interno 3 mm 26 x 2 più 36 ve la faccio vedere l'ho fatto single coil perché avevo intenzione di andare il flavor adesso vi voglio far vedere lo squonk come può essere ottimale eccolo qua vedete sale il liquido attraversa la coil si bagna il cotone vediamo un attimo la reattività della stessa e ci andiamo a fare due svapate la coil si comporta molto bene la presenza del cotone è ottimale io rimetto il cap del warrior con i suoi 24 fori di aria totalmente aperti ogni foro è di un millimetro di diametro l'atomizzatore lavora molto bene mi piace due svapate e considerazioni finali vuoto fo recurve box mod bf benissimo amici la box la box a questa gommatura che mi piace molto il tasto file è molto ampio si adaggia bene alla mano per la sua particolare forma e da una buona reattività dobbiamo considerare le sue dimensioni ed il suo peso se abbiamo intenzione di portarla via di portarla lavoro da qualche parte voi dovete considerare innanzitutto il suo prezzo di acquisto ragazzi meno di 50 euro portate via questa box del colore che vi piace gunmetal nera bianca con le sfumature bianca e nera la box è disponibile in cinque colorazioni diverse una box che lavora bene io forse l'avrei preferita con delle dimensioni leggermente più ridotte però capisco che lo slot per la batteria 2700 21 700 già questo occupa dello spazio la capienza del boccino a 8 ml quindi 8 ml il boccino l'apertura della finestra la parte contenente anche il circuito questo chipset proprietario di vuoto foo che la farà alimentare fino ad 80 watt queste alla fine sono le sue dimensioni o arriva fino a 0,08 ohm la lettura minima della resistenza loro fanno sì che l'utente ci può arrivare io magari vorrei sconsigliare di fare tale resistenza così basta perché la box rimarrà sempre una single battery quindi sarebbe più opportuno fare una resistenza un po più alta perché no da 0,15 in su ragazzi sfruttate questa box anche con una singola batteria 18650 ancora il cotone è bagnatissimo vi voglio vedere vi voglio far vedere questa coil di vuoto foo la reattività della box in se stessa riscuonco perché vi ho fatto vedere che ha uno squonco veramente ideale spendo due parole per questo atomizzatore per il warrior forse sarebbe stato più carino se ci mettevo magari in recensione un drip tip con attacco 8 e 10 perché sono intercambiabili di colore rosso comunque il nero riprende il colore della box e quindi sono andato in recensione così gommata carina sfinata io sicuramente mi ci sto trovando bene da quando mi è arrivata sono già due settimane che la sto testando la sto provando di continuo tant'è vero che in tante recensioni di vari prodotti ho utilizzato proprio questa box è una box che a mio avviso visto il costo di acquisto ci può stare non è un costo eccessivo e fa bene il suo lavoro allora amici voi cosa ne pensate recurve box mod bf what of o in collaborazione con mike vape voi cosa ne pensate lasciate un commento alla fine del video su youtube condividetelo lasciate un like lasciate un like invece sulla mia pagina facebook che si chiama holly svapo mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca tata holly svapo io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video vi invito pertanto a rimanere sul canale per le mie prossime recensioni saluto tutti quanti ciao mister nino ciao 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 Grazie per la visione!